Va ora in onda, l'Avvocato risponde. Buongiorno, buongiorno a tutti da Celeste Collovati e dal collega Davide Gilberto Polloni. Siamo qui nel nostro consueto spazio dell'Avvocato risponde, che abbiamo risoprannominato Avvocato del Lavoro risponde, in quanto da un mese a questa parte abbiamo deciso di concentrare quasi tutte le nostre puntate nelle tematiche gius lavoristiche, facendo carrellate di argomenti relativi al diritto del lavoro che ci sembrano molto interessanti e che è giusto che voi sappiate e conosciate tutti gli aspetti che ruotano attorno a questi argomenti. Ha anche una piccola parte di diritto previdenziale che mi sta molto a cuore. Ricordate che abbiamo lo sportello previdenziale attraverso la collaborazione di un consulente previdenziale. Tutto ciò che riguarda la vostra pensione, anche chi deve andare in pensione, può essere da noi valutato e attraverso delle consulenze su tutti i tipi di domande relativi alla pensione. Abbiamo parlato in queste puntate di alcuni argomenti relativi al diritto del lavoro. Oggi approfondiremo un tema, a mio avviso, molto interessante, anzi due temi in particolare, vero collega, molto interessanti. Uno, relativo, ve li anticipo, diciamo a quello che è il ruolo dei dirigenti e quindi tutto ciò che è la normativa, la disciplina relativa ai dirigenti nel loro ruolo nelle varie aziende. E se riusciamo, se ci avanza tempo, vorremmo parlare anche un po' del famoso cosiddetto lavoro nero, perché è molto attuale come argomento. Prima di cedere la parola al collega, voglio, come sempre, ricordarvi i nostri contatti. Mi fa piacere e ringrazio i nostri radioascoltatori che ci chiamano, lasciano il loro numero, in quanto spesso non è sempre possibile sviluppare la questione qui in questa sede, in diretta, e quindi il nostro consiglio è o di chiamarci fuori onda, e a tal proposito sapete che il numero è il 328-2408-154. Segnatelo bene, 328-2408-154. Oppure noi consigliamo di scrivere alla nostra casella, proprio che abbiamo dedicato apposta per voi, che adesso vi dico, in quanto scrivendo voi potete, come dire, già raccontarci parte della vostra questione, e quindi noi ci agevolate, no? Sì, magari anche allegando qualche documento, inerente al caso, insomma, che già possiamo visionare. Esatto, e quindi vogliamo dire la mail... Sì, la mail è avvocatorisponde, chiocciola, impugnazionelicenziamento.it. Avvocatorisponde, tutto attaccato, chiocciola, impugnazionelicenziamento.it. A proposito di questa impugnazione-licenziamento, l'invito per chi volesse è di andare a visitare i nostri siti, dico nostri, perché in realtà sono due siti collegati, entrambi che si occupano diciamo di diritto del lavoro. Principalmente il diritto del lavoro è attività svolta da impugnazionelicenziamento, con il sito www.impugnazionelicenziamento.it. Da qualche settimana è nato anche un nuovo sito, con sempre la collaborazione dei miei colleghi, il collega Polloni e un altro collega, che comunque, oltre alla materia previdenziale, prevede anche la materia giuslavoristica, ovvero www.dirittissimo.it. Già in questa sede l'ho detto alcune volte. Dunque, se poi chiaramente volete intervenire oggi in diretta in questa 40 minuti con noi, il numero di telefono della diretta della radio è lo 02-6620-3529. 02-6620-3529. Vi invito a contattarci. Allora, entrando nella questione odierna, come dicevo prima, oggi vogliamo affrontare il discorso, diciamo, dedicarlo alla figura del dirigente. E vorrei chiedere al collega Polloni, innanzitutto, come può essere riconosciuta, quali sono i requisiti per attribuire la qualifica di dirigente ad un lavoratore? Sì, dunque, allora, innanzitutto dobbiamo specificare che i dirigenti rappresentano una particolare categoria dei lavoratori subordinati, categoria che è regolata da norme particolari, norme speciali e da contratti collettivi specifici su questa categoria di lavoratori. Quali sono i requisiti fondamentali per riconoscere la qualifica dirigenziale, quindi anche eventualmente per riconoscerla a chi ancora non abbia questa qualifica da contratto. Allora, la qualifica dirigenziale viene sostanzialmente riconosciuta a quei lavoratori che in azienda ricoprono un ruolo con un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale. Quindi, un esempio potrebbe essere un direttore, un direttore di un reparto specifico, un vice direttore o comunque il capo di un'importante area o ufficio dell'azienda. C'è da specificare che, come dicevo prima, non è detto che questa qualifica sia già stata riconosciuta dall'azienda e quindi in questo caso il lavoratore potrà procedere tramite l'assistenza di un buon gius lavorista nella procedura per farsi riconoscere questa qualifica. Ovviamente in tal caso sarà onere del dipendente dimostrare di possedere e quindi di svolgere mansioni con quelle caratteristiche che sono tipiche del dirigente. Quindi avere una mansione sicuramente di un elevato grado di difficoltà e di impegno, di avere una particolare autonomia e discrezionalità nelle decisioni, nell'esplettamento di questa attività. Esatto, quindi io mi sentirai di, come dire, precisare che ci sono, cioè quindi una figura ben definita anche dalla legge, dalle normative e si può anche dire che ci sono, come dire, quali possiamo dire che siano le differenze tra il quadro e il dirigente? Sì, essenzialmente sono due figure simili ma diverse, nel senso che il quadro è il cosiddetto impiegato che ha delle funzioni direttive importanti e si differenzia invece dal dirigente in quanto il dirigente è colui che è preposto alla gestione o dell'intera azienda o di un ramo autonomo dell'azienda mentre invece il quadro ha funzioni direttive ma solo relativamente a un singolo particolare ramo di un servizio, di un ufficio e svolge questa attività sempre sotto il controllo o dell'imprenditore stesso o di un dirigente. Inoltre, quindi c'è una posizione gerarchica in cui il dirigente è superiore rispetto al quadro e il quadro non ha quei poteri di iniziativa, di responsabilità che invece sono tipici del dirigente. Il dirigente ad esempio si occupa anche di un'attività di promozione, di coordinamento e di gestione di quelli che sono gli obiettivi dell'impresa, un po' simile all'imprenditore. Quindi sono figure simili ma diverse in quanto ha caratteristiche di spettamento della mansione. Altra domanda che vorrei porre al collega Polloni. Ma in una società la figura del dirigente può anche essere, come dire, rivestire la qualifica di amministratore? Allora sì, è possibile che ci sia il cumulo di queste due cariche per lo stesso soggetto. Questa possibilità è prevista solo in particolari casi, cioè quando questo soggetto svolga comunque un'attività lavorativa diversa rispetto a quella della carica sociale. Quindi per la carica sociale svolge determinate mansioni, per la carica di dirigente ne svolge altra. Oppure quando comunque diciamo che la volontà dell'imprenditore, quindi la volontà dell'amministratore si svolga, si forma in un modo diverso e autonomo rispetto invece a quella del dirigente. Cioè quindi il dirigente deve essere comunque assoggettato a un potere di controllo, di direzione da parte di un altro soggetto esterno. Perché altrimenti non ci sarebbe la differenziazione tra queste due cariche. Quindi il proprietario dell'azienda e il dirigente stesso. Sì, sì, sarebbero la stessa cosa. Perfetto. E invece per quanto riguarda i contratti a tempo determinato e indeterminato, vorrei spiegare ai nostri radioascoltatori che il dirigente, cosa succede? Cioè il dirigente relativamente ai contratti e alle assunzioni è come un normale lavoratore, può essere assunto in un modo. Sì, allora è come, diciamo che ha alcune caratteristiche comuni agli altri impiegati, agli altri dipendenti e alcune caratteristiche peculiari. Allora come tutti i lavoratori può essere assunto con per esempio un patto di prova. Che cos'è il patto di prova? Il patto di prova è un periodo in cui le parti si valutano reciprocamente e ha la caratteristica che il patto di prova per il dirigente può arrivare ad avere una tempistica molto lunga fino a sei mesi e come tutti i lavoratori anche il dirigente può essere assunto a tempo determinato. La peculiarità qual è? È che mentre tutti i lavoratori hanno un limite ordinario massimo di rapporto a termine di 36 mesi, quindi tre anni, il dirigente invece può essere assunto a tempo determinato fino al limite di cinque anni. Con la peculiarità che... Quindi il limite massimo. Esatto, quindi un limite superiore rispetto a quelli di altri dipendenti, con la differenza che, facciamo un esempio, un lavoratore a tempo determinato, un impiegato, un operaio che ha un contratto di 30 mesi non può mai recedere prima di questo termine, salvo per giusta causa. Invece il dirigente, che potrebbe avere anche un contratto di cinque anni, dopo 36 mesi potrebbe ricedere liberamente dal rapporto. Perfetto, 0266203529 per tutte le domande gius lavoristiche in questa sede stiamo trattando questi argomenti, ma siamo sempre a disposizione anche per tutto ciò che attiene al diritto del lavoro con il collega Davide Polloni e ad ogni modo, per chi si fosse collegato solo ora, stiamo trattando il tema del ruolo del dirigente, che caratteristiche ha, il suo contratto, che cosa può essere applicato e quant'altro. Vorrei comunque ricordare che, prima non l'abbiamo detto, per tutti coloro che avessero poi bisogno dell'aiuto, insomma dell'assistenza di un avvocato del lavoro, sia direttissimo che impugnazione di licenziamento, si occupano appunto di queste materie e hanno delle sedi non solo a Milano, noi chiaramente come sede principale siamo a Milano, ma appello a tutti, anche eventualmente i piemontesi, i torinesi, che abbiamo una sede anche a Torino. Quindi diciamo che se c'è la possibilità di incontrarci e fissare un appuntamento, secondo, a mio avviso, a nostro avviso è preferibile la conoscenza di persona, ma anche per banalmente la consegna dei documenti e la spiegazione di tutto il caso. Ricordiamo sempre che molto spesso, questo ci tengo a consigliarlo, ma perché è una mia opinione personale che poi ho visto applicata anche nella realtà, è efficace, ovvero di farsi assistere o anche solo chiedere un consiglio, un parere, da un legale, soprattutto specializzato, anche prima che nascano degli attriti con l'azienda o comunque, insomma, delle controversie. A volte si può anche evitare di andare in giudizio se magari ci si rivolge prima, si chiede un parere preventivo al legale del lavoro. Questo ritengo che sia fondamentale, ma forse questo concetto ancora non tutti lo sposano. Sì, perché spesso comunque i lavoratori, ma così come tutti gli utenti, immaginano che rivolgersi a un avvocato significhi aprire un contenzioso. In realtà non è così, nel senso che... Capiamo anche che per dire a volte i rapporti sono buoni rapporti, le persone hanno lavorato magari anni in un'azienda, giustamente vogliono anche mantenere un buon rapporto. Certo, certo. L'obiettivo primo del giustolavorista è quello comunque di mantenere un ottimale rapporto tra le parti. Ovviamente è importante che vengano tutelati gli interessi del proprio assistito e quindi laddove ci siano dei diritti lesi, il giustolavorista deve intervenire per la tutela di questi diritti che devono essere fatti valere. Esatto. Ora comunque a breve vi lasciamo per, anzi, vi lascerai subito così poi anticipiamo, vi anticipo che dopo la pubblicità continueremo con il discorso appunto dei dirigenti, specialmente per quanto riguarda anche il discorso della malattia, delle ferie, se hanno, diciamo, degli straordinari, se hanno delle particolari regole rispetto agli altri lavoratori, no? In tema di ferie, in tema di straordinari, e soprattutto anche in tema di licenziamento. Io farei che dopo la pubblicità. Ad ogni modo, ripeto ancora una volta i nostri numeri di telefono, lo 0266203529 0266203529 e ripetiamo la mail che tra l'altro possiamo anche leggere in diretta, quindi voglio dire è molto utile la mail. Avvocato risponde, chiocciola, impugnazionalicenziamento.it e il numero della fuori diretta che è il 328-2408154. Vorrei solo fare una precisazione. Questo numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle orari, diciamo, di lavoro, dalle 9, 9 e mezza del mattino, ma anche le 9. Sì, perché anche gli avvocati alla sera hanno il diritto di riposarsi, come gli altri lavoratori, vero? Ecco appunto, perché spesso può capitare, è più che altro che magari ci troviate o non ci troviate al telefono o ci troviate magari che non siamo più in studio perché sono le 10 di sera, quindi a volte viene anche difficile magari non avendo il fascicolo davanti o i documenti ad hoc della questione. Comunque, ci rivediamo tra poco e io vi lascio per pochissimi minuti di pubblicità, ma tornate con noi perché dobbiamo parlare di ferie relative al dirigente Straordinari, permessi Straordinari Tante cose da dire ancora E tante cose da dire ancora Eccoci, tornati all'avvocato risponde Celeste Colovati e il collega Polloni per parlare con voi di questioni gius, lavoristiche in particolare vi ho lasciati parlando del stavamo appunto parlando del ruolo dei dirigenti e di quali sono le caratteristiche relative a questa figura Ora vogliamo appunto raccontare che cosa la normativa prevede in tema di ferie, di malattia relativamente insomma a questi impiegati che, cioè i lavoratori, scusatemi che cosa si differenziano dagli impiegati come in tema di ferie, di malattia? Allora, i dirigenti hanno una normativa tutta loro particolare per quanto riguarda appunto ferie, riposi, straordinari lavoro notturno perché? Perché questi lavoratori non hanno essenzialmente un limite di orario non essendo, diciamo, di norma la loro retribuzione stabilita e regolata in relazione alla quantità del lavoro prestato ma in relazione alla qualità di questo lavoro quindi conseguentemente al dirigente spetterà un compenso per il lavoro straordinario solo nel caso in cui questa apprezzazione lavorativa venga svolta oltre un normale limite di ragionevolezza quindi andando a superare valori ordinari che possano anche attentare alla propria salute all'integrità psicofisica a causare una gravosità sulla salute del lavoratore e del dirigente solo in questi casi verrà riconosciuto un compenso per lavoro straordinario bisogna precisare ad esempio che per quanto riguarda anche il lavoro notturno non ci sono particolari maggiorazioni automaticamente previste dal contratto collettivo però ovviamente qualora il dirigente sistematicamente dovesse lavorare in orario notturno ad esempio per partecipare a ogni settimana delle sedute serali del consiglio di amministrazione gli dovrà essere comunque retribuita una maggiorazione sul proprio stipendio previsto dal contratto quali sono le peculiarità in tema ad esempio di ferie allora il tema delle ferie è normato dai contratti collettivi dei dirigenti i cui più importanti sono il contratto nazionale industria dei dirigenti e il contratto del terziaro dei dirigenti il primo prevede che il dirigente abbia 35 giorni lavorativi e almeno due settimane consecutive laddove egli ne faccia richiesta e il secondo invece prevede 30 giorni per ogni anno di servizio qual è la peculiarità fondamentale che differenzia i dirigenti dagli altri lavoratori è che il dirigente ha la facoltà di scegliere autonomamente quando godere delle proprie ferie ecco questo diciamo che è un gran vantaggio assolutamente sì perché invece tutti gli altri lavoratori devono sottostare a una pianificazione delle ferie che viene individuata di norma autonomamente dall'attore di lavoro quindi non hanno potere decisionale su quando poter fruire le ferie hanno solo un numero di ferie di giorni annuali e hanno diritto a fruirle non a stabilire quando poterle fruire quindi questa è la grossa differenza veniamo poi per esempio al tema della malattia quali sono le caratteristiche anche qui regolato dal CCLL industria e terziario sì anche qui appunto abbiamo questi due contratti nazionali più applicati i quali prevedono il contratto collettivo nazionale industria che il dirigente possa stare in ferie in malattia senza rischiare di perdere il posto di lavoro per 12 mesi il terziario invece ne prevede 240 giorni in un anno solare per ogni dirigente superato questo periodo cosiddetto periodo di comporto cioè in cui il dirigente avrà comunque diritto al mantenimento e alla conservazione del posto il dirigente scaduto questo termine potrà chiedere di fruire di un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 6 mesi sì ecco invece per quanto riguarda il tema del trasferimento cosa prevede il contratto collettivo industria e terziario allora il trasferimento che è un tema che spesso sta molto a cuore a tanti dirigenti prevede che il trasferimento innanzitutto può essere disposto dall'azienda nei confronti del dirigente solo addove sussistano comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive la comunicazione di questo trasferimento deve avvenire per iscritto come tante altre cose nel diritto del lavoro apro una parentesi visto che mi sembra che ci fosse arrivata una mail qualche giorno fa da una nostra radioscoltatrice che ci chiedeva se per dire anche le contestazioni disciplinari dalla parte del datore di lavoro dovessero essere fatte in che modo se ci fosse una particolare forma ricordatevi che tutto deve per legge avere sempre una forma cioè per iscritto no? assolutamente anche in questo caso il trasferimento deve essere disposto per iscritto insomma in cui devono essere indicati i motivi quali sono le peculiarità di questo trasferimento del dirigente allora il contratto nazionale dell'industria dei dirigenti prevede che questo trasferimento debba essere comunicato con un preavviso di tre o quattro mesi a seconda che il dirigente sia da solo o abbia dei familiari a carico prevede un e così anche il terziario per quanto riguarda il tema del rimborso questi due contratti prevedono che le spese sostenute per il trasferimento del dirigente della propria famiglia devono essere a carico dell'azienda e che l'azienda si debba anche fare carico della differenza tra il cano di locazione eventuale della casa diciamo precedente con quella successiva conseguente al trasferimento per un periodo che va da 18 mesi a 24 mesi a seconda dei due contratti quindi quante cose da tenere presente per un dirigente insomma anche relativamente ai rimborsi alle indennità giusto? esatto per esempio il dirigente che venga trasferito avrà diritto a una indennità per questo trasferimento che sarà di due mensilità e mezzo o tre e mezzo nel contratto dell'industria e una e mezzo o tre nel contratto del terziario quindi c'è anche questo rimborso ulteriore quali sono poi delle eccezioni e dei casi di esclusione in cui il dirigente non potrà mai essere trasferito senza il proprio consenso questi due contratti prevedono che il dirigente che abbia compiuto 55 anni se uomo o 50 se donna nel contratto dell'industria oppure 60 nel contratto del terziario non possono mai essere trasferiti senza il consenso dello stesso dirigente quindi ci sono delle tutele particolari per questa categoria di lavoratori esatto e a proposito di tutele vorrei anche chiedere al collega Polloni esperto di licenziamenti cosa succede in questo caso se dovesse essere licenziato un dirigente quali sono le tutele riservate a questo tipo di ruolo allora il licenziamento del dirigente è un tema molto molto importante che ha delle caratteristiche peculiari il dirigente innanzitutto possiamo sottolineare come sia privo di quelle tutele che sono ordinariamente riservate alla generalità di tutti i dipendenti in caso di illegittimità di licenziamento per esempio ai dirigenti non sarà applicabile la nuova disciplina prevista per il contratto cosiddetto tutte le crescenti e in caso di licenziamento non sarà praticamente mai prevista la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro quindi ci sarà quasi sempre salvo in casi veramente limiti come per motivi discriminatori ci sarà sempre solo una tutela di risarcimento quindi una tutela economica per il dirigente che fosse licenziato illegittimamente come per gli altri lavoratori il dirigente potrà essere licenziato o per giusta causa che sono i due motivi principali giustificato o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo vediamo un po' di casi tipici di questi licenziamenti allora i licenziamenti previsti per giustificato motivo oggettivo riguardano la sfera oggettiva dell'azienda quindi non riguardano la sfera soggettiva del dirigente potrebbe essere per esempio un caso di un dirigente licenziato per una soppressione del proprio posto di lavoro in seguito a una riorganizzazione interna dell'azienda ad esempio in caso di crisi aziendale l'azienda deve riorganizzare i propri reparti e decide di sopprimere quella carica dirigenziale perché magari accorpa due reparti e quindi ha necessità di avere un solo dirigente in questo caso il licenziamento potrà essere giustificato e quindi il dirigente non avrà diritto a nessuna tutela risarcitoria la motivazione è una riorganizzazione dell'azienda l'importante è che sia oggettiva cioè il dirigente in quel caso eventualmente potrebbe dimostrare che quella posizione non è stata chiusa non è stata soppressa e quindi dimostrare che quel licenziamento è legittimo invece per quanto riguarda invece la sfera soggettiva del dirigente per esempio ci possono essere determinati condotti determinati comportamenti del dirigente stesso che possano andare a minare quel legame di fiducia che ci deve essere sempre tra datore di lavoro e lavoratore ad esempio non so il caso di un dirigente che abbia omesso di controllare il proprio ufficio amministrativo e ciò abbia causato dei danni all'azienda oppure facciamoci un esempio di un dirigente nel settore bancario che abbia consentito alla clientela della propria banca una esposizione dei debiti anomala e quindi facendo sì che la banca si accollasse dei rischi importanti in questi casi il licenziamento ovviamente sarà giustificato un altro caso potrebbe essere per esempio ed è un caso che frequentemente viene utilizzato per licenziare i dirigenti è quello per il mancato raggiungimento di un determinato risultato da parte del dirigente quindi in questo caso deve emergere però chiaramente l'impegno e la fattibilità di raggiungere determinati risultati che non siano stati raggiunti per una causa imputabile al dirigente ecco una volta che il dirigente dovesse ricevere una lettera di licenziamento che cosa può fare allora innanzitutto rivolgersi a un buon gius lavorista e questo è sempre importante assolutamente sì perché il buon gius lavorista ha una conoscenza specifica sul diritto del lavoro potrà fare una valutazione preventiva e valutare se quel licenziamento ha in sé dei presupposti affinché possa essere dichiarato illegittimo e quindi ci possano essere delle conseguenze risarcitorie per il dirigente la cosa importante è che entro quanti giorni deve essere impugnato il licenziamento ma questo vale sempre per tutti i lavoratori entro 60 giorni dal giorno in cui ricevete la lettera esatto non da quando la lettera è stata scritta dall'azienda classica domanda che ci fanno i lavoratori riporta la data del 10 giugno ma è la ricevuta il 20 ecco dal 20 di giugno quando si riceve la lettera decorre il termine di 60 giorni diciamo quando il destinatario la riceve esatto esatto entro i quali il dirigente deve impugnare quel licenziamento con una lettera raccomandata esatto una volta che ha mandato questa raccomandata si apre un successivo termine di 6 mesi 180 giorni e che cosa succede in questo periodo le parti potrebbero trovare un accordo e quindi l'avvertenza viene conclusa ad esempio con un accordo tombale oppure se non trovano un accordo entro questi 6 mesi il dirigente potrà decidere di procedere con il deposito di un ricorso presso il compendente tribunale ecco sì certo c'è poi una peculiarità che viene associata ai dirigenti e che i dirigenti in alternativa al ricorso in giudizio possono proporre un ricorso presso il collegio arbitrale questo è proprio previsto dal contratto collettivo esatto cioè questi contratti collettivi sia dell'industria che del terziario prevedono tutta una struttura con questo collegio che sostanzialmente svolge le funzioni di un mini giudizio anche se a differenza del giudice non ci sarà una sentenza ma ci sarà un lodo si chiama così la sentenza diciamo negli arbitrati che cosa potrebbe decidere per esempio questo collegio arbitrale potrebbe decidere che quel licenziamento è infondato e quindi potrebbe disporre a carico dell'azienda il pagamento di una indennità supplementare una sorta di indennità risarcitoria per il dirigente ecco in questo caso è molto importante specificare quelle che sono le indennità supplementari per i dirigenti perché sono di importo rilevante e assumono appunto importanza anche nella trattativa eventuale che gius lavorista da una parte e gius lavorista dall'altra le parti fanno per evitare questo giudizio vedete perché è importante io subentro a gamba tesa per dirvi che in tutti questi casi e lo specifichiamo sempre in cui magari insomma sorge la necessità di fare una trattativa con il vostro datore di lavoro e quindi con l'azienda ma non perché un soggetto singolo non sia capace di farlo però il consiglio che diamo è date le competenze data la capacità di intermediario e comunque soprattutto le conoscenze gius lavoristiche delle norme gius lavoristiche alla base il consiglio spassionato è sempre di farsi assistere da un legale esperto in diritto del lavoro perché insomma la trattativa innanzitutto può essere magari indirizzata più specifica sulla base delle normative a quel fine a quel risultato rischiereste magari ma non perché non sappiate le cose lo dico molto onestamente ma rischiereste non avendo diciamo gli strumenti giuridici magari di fare andare una trattativa come invece non ve l'aspettavate non è migliore perché voglio dire il dirigente a meno che non abbia specifiche competenze ma questo vale per tutti i lavoratori a meno che non abbia specifiche competenze sul diritto del lavoro come magari potrebbe essere un dirigente a capo del personale non ha quelle conoscenze delle normative non sa quelle che sono gli elementi che nell'eventuale giudizio potrebbero giocare a suo favore o sfavore e quindi diciamo che l'accordo tra lavoratore e azienda deve invece non può prescindere da questi elementi che sono importanti perché l'accordo non è altro che un'alternativa all'eventuale giudizio quindi è importante conoscere bene la normativa e quelle che sono le possibilità in giudizio per il dirigente sì perché magari ciò che non si dice adesso si può dire dopo e viceversa noi chiaramente parlando con l'azienda e con il datore di lavoro teniamo sempre in conto di quello che potrebbe essere il dopo appunto come diceva il collega dell'eventuale giudizio e ci sono alcune cose che è meglio magari come dire farle emergere subito o viceversa questi sono piccoli aspetti chiaramente molto tecnici che richiedono una preparazione giuridica e anche oserei dire specifica in tal materia nel lavoro nel diritto sì ma anche perché per esempio un aspetto fondamentale nella trattativa tra dirigente e azienda ed è anche molto complesso è quello una volta che si stabilisce il numero delle mensilità che è il classico elemento con cui si va a quantificare la buonuscita è la quantificazione di questa mensilità nel senso che il dirigente in particolare ha una serie di elementi retributivi diretti e indiretti che non sono spesso di facile quantificazione perché ad esempio spesso i dirigenti hanno una parte sul variabile che può cambiare anche molto esatto su un fatturato sul raggiungimento di obiettivi oppure hanno dei benefits come potrebbe essere l'auto aziendale a volte l'appartamento a volte il telefono il computer che sono suscettibili anche di una valutazione economica e che devono essere assolutamente inseriti nella mensilità da considerare da moltiplicare poi per il numero di mensilità che le parti hanno deciso di attribuire quindi vedete quanti aspetti diciamo tecnici che ovviamente non addetto ai lavori non può sapere ma come se mi ci metto me stessa cioè vado dal medico io dal medico non ho le competenze magari per come dire entrare nel dettaglio e poter sapere se quello è operabile quell'aspetto oppure non so se il consiglio è mettere il colare alla cervicale visto che soffro di cervicale non solo ma ad esempio se tu soffrissi di cervicale dico andresti mai da un cardiochirurgo no nel senso che ogni branca della medicina così come il diritto ha il suo specialista certamente al giorno d'oggi il consiglio è trovare uno specialista ma così vale anche per il diritto previdenziale io cioè il mio consiglio è di non ce ne sono tanti ma di rivolgersi a avvocati colleghi anche insomma che fanno previdenziale perché comunque è una materia molto tecnica molto specifica i procedimenti anche in giudizio sono particolari non sono ordinari molto spesso ci si trova di fronte anzi quasi sempre delle istituzioni pubbliche quindi insomma c'è un giudizio tutto a sé stante anche in corte dei conti in più adesso stiamo seguendo anche un giudizio in corte europea quindi il procedimento è assolutamente diverso e particolare va studiato nei minimi dettagli insomma in generale il consiglio è sempre di rivolgersi ad un avvocato specializzato ora stiamo appunto dicendo esatto chiediamo l'argomento dell'initità supplementare che appunto è l'elemento molto importante perché insieme al preavviso è l'elemento diciamo in cui viene determinato il corrispettivo da attribuire al dirigente in caso di licenziamento illegittimo allora il contratto dell'industria prevede che il dirigente all'indirigente spetti un'indennità supplementare che sia pari al preavviso qualora il dirigente abbia fino a due anni di anzianità aziendale in questo caso ci saranno due mensilità qualora il dirigente abbia un'anzianità tra i due e i sei anni spetteranno tra le quattro e le otto mensilità il dirigente che avrà un'anzianità tra le sei e le dieci spetteranno da otto a dodici mensilità oltre i dieci e sino ai quindici anni di anzianità da dodici a diciotto mensilità oppure in caso finale oltre i quindici anni di anzianità addirittura fino a ventiquattro mensilità quindi è molto importante anche la valutazione dell'anzianità aziendale stesso discorso simile non starei poi a ripeterlo insomma perché è veramente molto tecnico prevede anche il terziario anche qui se il dirigente abbia dai quattro ai sei anni di anzianità dai sei ai dieci dai dieci ai quindici o superiore ai quindici ecco io riterrei concluso diciamo il discorso dei dirigenti assolutamente poi molte cose valgono anche per i normali cioè insomma i lavoratori di altre categorie altri ruoli io purtroppo mancano tre minuti quindi siamo proprio i saluti vorrei sempre approfondire discorsi anche di altre tematiche se ci seguite ci fa piacere siamo sempre anche in replica potete seguirci comunque anche o su facebook o diciamo sul sito metteremo poi per chi si fosse perso la puntata una parte di puntata metteremo comunque sia su www.dirittissimo.it che su www.infugnazionelicenziamento.it noi mettiamo diciamo le puntate odierne cioè di tutti insomma i venerdì io vorrei in chiusura ricordare i nostri contatti allora siamo sicuramente come sedi a Milano e a Torino quindi se vogliate prendere un appuntamento noi rispondiamo al 328 24 08 154 orari lavorativi se volete mandare una mail ci agevolate lo dico sempre e rispondiamo nel breve periodo e la mail è avvocato risponde chiocciola impugnazionelicenziamento punto it io direi che ci siamo detti tutto vuoi ricordare qualcosa magari farei brevemente una carrellata di quelli che sono gli argomenti di diritto del lavoro di cui ci occupiamo e nei quali possiamo aiutare i nostri lavoratori per quanto riguarda il diritto del lavoro fondamentalmente un po' tutti gli argomenti siamo sia dalla parte del lavoratore che dalla parte del datore vuoi elenchiarli tu? sì allora temi classici nei quali veniamo contattati sono per differenze retributive quindi di livello straordinari non pagati stipendi non pagati così come il TFR non pagato alla fine del rapporto piuttosto che rapporto di lavoro nero di cui oggi non abbiamo avuto il tempo di parlare ma parleremo sicuramente in una delle prossime puntate lavoro nero lavoro straordinario piuttosto che potrebbe essere i casi di mobbing demanzionamento demanzionamento licenziamento che è un tema molto importante che poi sono piuttosto che contratti a progetto illegittimi valutazione di contratti a termine assistenza questo io la trovo molto importante personalmente ho assistito anche alcuni lavoratori di qualunque ruolo che magari si sono trovati di fronte magari per un episodio capitato o perché sono stati provocati o perché insomma c'è sempre un perché è scappata una parola insomma di troppo può essere che ricevano una contestazione disciplinare e sappiamo che le contestazioni disciplinari hanno come conseguenza varie tipologie di sanzioni dalla meno grave alla più grave che può essere il licenziamento e questo secondo me anche in quel caso è utile farsi assistere davanti a diciamo quando vengono richiamati dall'azienda dal colui che seleziona il personale insomma del capo del personale presentarsi magari con un legale che anche in quel caso può dare come dire può lui coordinare tutto il colloquio del insomma tra azienda e lavoratore è meglio io vi ringrazio ringrazio il collega Davide Polloni di Impugnazione Licenziamento mi raccomando rivolgetevi a un avvocato del lavoro se avete problematiche gius lavoristiche e avvocato previdenziale se avete problematiche pensionistiche vi saluto buon pomeriggio a venerdì prossimo grazie a voi avete ascoltato l'avvocato risponde a venerdì a venerdì a venerdì Grazie a tutti.